In data 22 marzo 2019, perché fino ad oggi ancora non si è provveduto ad aprire al pubblico il parcheggio realizzato dal privato che ha edificato in via Marco Polo in regime convenzionale? Prego, Consigliere Abbate. Signor Presidente, posso, Consigliere Abbate, solo un secondo. Volevo dirvi che rispetto alle interrogazioni, per quanto noi abbiamo cercato di organizzare risposte sempre complete, purtroppo qualcosina mancherà, perché la richiesta in particolare, quelle che sono state, sono arrivate in comune il 23, inviate il 21 per il 23, noi abbiamo avuto pochissimo tempo per prendere la documentazione, perché solo 23, 24, sono solo due giorni, poi 25 è stata festa, quindi oggi è 26, abbiamo avuto pochissimo tempo. Quindi ogni risposta io documenterò tutto, voi mi direte, però ci sarà qualche cosa, qualche documento che mancherà, se poi vorrete rimandare completamente la singola richiesta o implementare la risposta rispetto a quello che siamo riusciti a documentare e poi completarla in un secondo momento. Questo è l'unico problema che abbiamo avuto, proprio per la ristrettezza dei tempi con la quale c'è arrivata la comunicazione. Inoltre io ho un problema, alle 7 e mezza abbiamo un altro appuntamento, quindi vi chiedo di essere più rapidi possibili per consentirmi di andare poi all'altro impegno istituzionale che ho. Grazie. Allora, per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno è pervenuto nel mese di marzo, Sindaco, e credo che qui non ci siano problemi, giusto? Sì, sì. Allora, prego, consigliere Abbate. Buonasera a tutti. Sindaco, è rapidissima la domanda. I cittadini di via Marco Polo mi hanno riferito che è stato seguito un intervento su cui ci doveva essere il rilascio di standard urbanistici, in particolare un parcheggio da lasciare al ruso pubblico. Mi viene riferito che questo parcheggio non è stato mai lasciato ancora alla disponibilità dell'uso pubblico, e quindi chiedo spiegazione. Sì, l'ufficio urbanistica mi ha comunicato, e ciò quale tutta la documentazione che riguarda, sono riuscito a raccogliere tutta la documentazione che riguarda proprio questa situazione. In realtà noi abbiamo fatto, fino ad ora, già tre diffide, il 23-4, il 15-9, stiamo parlando della prima diffida il 20 aprile 2016, poi il 15-9-2016, l'ultima diffida che abbiamo fatto è del 23-4-2019, in cui noi abbiamo chiesto che arrivino da parte del privato il completamento dei lavori e l'agibilità della struttura, per poter poi successivamente acquisire a patrimonio comunale l'area che deve essere ceduta, come giustamente osservano i cittadini. Abbiamo fatto numerose richieste, e tra l'altro nelle scorse settimane mi sono anche sentito con i titolari che mi hanno promesso che in brevissimo tempo portano la documentazione che servirà per acquisire a patrimonio la struttura. Noi ci siamo adoperati, e io ce l'ho qua, con diverse lettere e con diffide, non ultima questa del 23-4-2019. Naturalmente se a questa ultima diffida non verrà adembiuta, diciamo, disporremo gli atti conseguenziali. Mi dichiaro soddisfatto, atteso il fatto che mi è stato riferito, che fra pochi giorni si sistemerà la questione con l'intervento del privato. Grazie. Grazie a lei. Secondo punto dell'ordine del giorno, richiesta del consigliere Albata al sindaco trasmessa via PEC il 22 marzo 2019, dare spiegazione in ordine alla visita effettuata presso l'edificio scolastico Anna Mozzillo per l'individuazione di una sede di commissariato di Polizia. A questo punto ci sta anche un'altra richiesta pervenuta alla Presidenza il 19 di aprile, dove il consigliere Abbate mi dice di unificare la risposta. Dico bene, consigliere? Se lo ribadisce lei... Esatto, unificare perché si tratta dello stesso argomento, e quindi sarebbe inutile, praticamente, e dispersivo fare due interrogazioni. E così andiamo più velocemente. Allora facciamo un'unica discussione se il sindaco è d'accordo? Assolutamente. Bene, prego, consigliere. Allora, la prima interrogazione che risariva a marzo era conseguenziale a una visita che lei, sindaco, aveva effettuato presso la scuola Mozzillo, laddove erano presenti i funzionari della Polizia insieme a lei. Chiaramente è stata poi superata la questione perché lei ha redatto degli atti, fra cui anche una delibera di giunta, in cui prende delle decisioni. Quindi la domanda aggiornata all'attualità era quella. Nella delibera di giunta 103 del 4 aprile 2019, volevo sapere in parole povere, elementari, perché quel contenuto, da dove è scaturito quel contenuto, da dove è scaturita quella decisione. È una domanda semplice a cui poi praticamente si può ricollegare tutta una serie di attività che lei sembra abbia portato avanti perfino questa mattina, se non sbaglio. Io attendo la sua risposta, Presidente, dando al sindaco tutti i minuti di competenza, cioè i dieci minuti, e dopodiché nei miei ultimi cinque minuti eseguirò l'altro mio intervento. Va benissimo. Prego, sindaco. Allora, sì. Innanzitutto credo che una decisione così importante, certamente, una volta che l'istruttoria sarà completata, saranno decisioni che io porterò in Consiglio Comunale, perché ritengo sia il luogo più adatto per prendere questo tipo di decisioni. Quindi siamo in una fase, come ho spiegato anche stamattina, assolutamente preliminare e quindi vi dettaglio sostanzialmente in maniera rapida quello che è accaduto. Mi è pervenuta la lettera da parte della Questura che mi chiedeva la disponibilità da parte dell'ente a fornire dei locali per allocare ad Agropoli il commissario di Polizia. La lettera è seguita da una prima vista del vicequestore che venne qui in Comune e con lui facemmo una chiacchierata di carattere generale sulle intenzioni che la Questura aveva e sulle indicazioni che aveva ricevuto dal Ministero. La prima cosa che doveva acquisire il questore su indicazione del Ministero era la disponibilità da parte dell'ente. Allora giustamente concordammo di vederci in un'altra visita in cui noi con i tecnici comunali e lui con i tecnici del Ministero potevamo fare un giro per valutare le disponibilità di strutture comunali al fine di poter valutare questa disponibilità. La richiesta del Ministero era quella di avere dei locali comunque in uso in compotato gratuito per 30 anni almeno perché loro spiegavano che l'investimento che si è deciso di fare su Agropoli, almeno questo è quello che riportavano, essendo da un punto di vista di personale importante. Si parla di 40 uomini che dovrebbero partecipare, comporre il commissario, perché poi un commissario è una struttura organizzata, quindi ha un certo numero di uomini precisi, è una organizzazione chiara sul territorio, quindi non può essere fatta di 35 o di 42, proprio di 40 persone con dei compiti specifici, con una certa organizzazione e oltre a questo il Ministero avrebbe garantito una disponibilità economica nel momento che aveva nelle sue disponibilità dei locali di completare i lavori con tutto ciò che da un punto di vista tecnico era di loro competenza, cioè quindi per l'allestimento delle camere di sicurezza ed altro. Così ci siamo recati nella seconda visita con i tecnici come ho raccontato, io ho fatto visitare diverse strutture nel Comune di Agropoli, sia quelle di proprietà dell'ente ma anche quelle che potevano essere utilizzate, faccio un esempio, abbiamo portato a vedere anche la caserma della Polfer che in questo momento è stata da parte delle ferrovie messe in vendita, quindi diversi luoghi della Polfer, tra le altre che potevano essere funzionali. Da questa visita sostanzialmente atteso che le richieste venivano congentrate soprattutto su una grandezza, per esempio quella della Polfer non andava bene perché era troppo piccola perché si parla di 16, almeno 16 uffici e quindi di una grandezza di oltre 600-700 metri quadrati di struttura, per questo motivo le due strutture e le due disponibilità che avevamo, che potevano mettere in condizione di essere accettate, che sono state valutate, sono la scuola Mozzillo e l'area della Croce Rossa. Infatti tutte e due ricadono in un'area centrale, fornita di parcheggi, è facilmente raggiungibile, quindi aveva tutte le caratteristiche che loro richiedevano. E quindi per restare proprio al dettaglio di quell'incontro, noi quando ci recammo nell'area della Croce Rossa, che era quella che era ritenuta migliore, potemmo visitarla. Quando ci recammo poi alla Mozzillo io diede la disponibilità di vederla dall'esterno perché all'interno c'era delle attività didattiche e poi il questore mi chiese se possiamo dare giusto un'occhiata e in quella sede chiedemmo la disponibilità a fare giusto un'occhiata di 5 minuti senza disturbare le attività didattiche e così facemmo in modo di dare un'occhiata interna a com'era la struttura. Fatto questo, successivamente io ho incontrato il Consiglio di Istituto della Scuola, l'ho rincontrato stamattina proprio per ragionare, ecco poi il senso della delibera successiva, quale potesse essere la migliore soluzione se la scelta dovesse ricadere sull'utilizzo della Mozzillo, perché ancora ripeto non possiamo saperlo in quanto a oggi il Ministero non ci ha, dopo la nostra delibera di disponibilità, non ci ha mandato un progetto tecnico che ci consenta di capire le reali necessità. Noi abbiamo mandato gli schemi tecnici della Mozzillo e dell'area della Croce Rossa, loro stanno facendo credo un architettonico organizzativo che ci faccia capire le necessità che loro hanno e poi solo dopo che ci avrebbero rimandato questi progetti i nostri uffici avrebbero valutati eventuali costi ed eventuali necessità da risolvere rispetto a queste. Tra le necessità, qualora la scelta, il Consiglio Comunale in questo caso decida per la scuola Mozzillo, quindi una possibilità, ci portavamo avanti in un ragionamento con la scuola stessa per eventualmente valutare lo spostamento delle tre aule della Mozzillo. L'ufficio con lettera di questi giorni ci ha inviato, ritiene che tecnicamente tre aule della Mozzillo possono essere allocate da Landolfi. Oggi nella discussione che abbiamo avuto con i dirigenti scolastici, gli insegnanti eccetera, loro ipotizzavano anche di valutare la possibilità di queste tre aule di eventualmente di allocarle nella scuola di Mozzillo e noi valuteremo anche questa disponibilità. Si tratta soltanto di tre aule, quindi si parla di 30-40 bambini da allocare, nella maniera migliore naturalmente, che non impediscono assolutamente né la comodità né l'attività scolastica nella loro totalità, nella loro pienezza e quindi con loro si deve valutare insieme alla scuola non solo la possibile allocazione di queste tre aule, ma anche la riorganizzazione della scuola Landolfi perché, come sapete, il condannamento dei lavori della nuova area della Landolfi avrebbe consentito alla scuola una ridistribuzione, una riorganizzazione migliore delle attività didattiche per effetto di spostamento delle aule, per esempio dal terzo piano al secondo piano, l'utilizzo della palestra, della mensa che avrebbe implementato i servizi della scuola stessa. Quindi, e noi questo non l'abbiamo potuto fare l'anno scorso perché l'emergenza di spostare la scuola di San Marco ce l'ha impedito, quindi argomento di discussione comunque con i dirigenti del primo circolo era comunque una riorganizzazione su loro indicazione della scuola Landolfi in ogni caso e a questo punto, qualora dovesse servire la disponibilità di tre aule della scuola materna, anche eventualmente inserire in questa riorganizzazione anche questa necessità. Questo è quello che abbiamo fatto, perché riguarda la delibera, la richiesta che noi avevamo fatta agli uffici era di valutare le diverse possibilità di allocazione delle classi in un'organizzazione dei paesi scolastici e l'ufficio ci ha risposto dicendo che l'unica possibilità che abbiamo, in un punto di vista tecnico e un punto di vista economico, è quello dello spostamento, come detto, dalla mozzilla delle tre aule, dalla mozzilla alla Landolfi. Prego, Consigliere. Sindaco, una cosa soltanto per cui praticamente lei può intervenire è questa, cioè non ho capito, cioè tre aule potrebbero andare alla Landolfi e il resto? Sono solo tre aule che in questo momento sono utilizzate nella mozzilla per lo svolgimento delle attività della mozzilla. Quindi quelle tre aule potrebbero andare o alla Landolfi o al Moio e l'istituto verrebbe liberato. È questo che ho capito. Quindi io non so da dove iniziare, Sindaco, perché mi sembra un discorso il suo che detto così in modo elementare potrebbe pure quadrare perché dice la Polizia di Stato ha fatto questa richiesta. Però evidentemente, Sindaco, le devo dire che lei è mal consigliato molto probabilmente, ma male assai. Sa perché? Perché io le faccio vedere prima questa locandina e poi dopo la faccio vedere alla televisione. Vedete questa locandina? 18. Vedete questa locandina? 18 metri quadrati abitanti. 18 metri quadrati abitanti sono gli standard minimi che il 1968 furono stabiliti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968. Cioè al di là dei quali, al di sotto dei quali, non si può andare assolutamente indipendentemente e da che che ne dica l'ufficio lavori pubblici del progetto architettonico o dell'organizzazione. vuole sapere la situazione in Agropoli com'è attualmente, Sindaco, è inguaiata. La situazione in Agropoli è questa. Nella redazione del PUC il progettista dice le dotazioni scolastiche presentano carenze significative. Cioè siamo al di sotto degli standard urbanistici 18 metri quadrati ad abitanti abbondantemente. Quindi il fatto che lei come Sindaco e con l'Aggiunta determina un atto di indirizzo di poter dare all'ufficio lavori pubblici, secondo me non ci azzecca proprio niente. Lei doveva passare, ove mai fosse stato possibile, perché gli standard erano stati soddisfatti, dall'ufficio urbanistica. In cui dire ma noi come siamo messi come standard di scuola? Siamo messi male. Allora io non posso togliere ancora un'area perché lo standard che è al di sotto dei minimi già accertato in fase di PUC addirittura praticamente e quindi risale già ad anni fa, andremo ancora al di sotto. Quindi in un momento in cui gli urbanisti, ovvero praticamente tutti quanti coloro che si interessano della città, inneggiano una conquista sociale, sindaco, una conquista sociale la chiamano i 18 metri quadrati abitanti, una conquista sociale per poter vivere bene in una città, che cosa fa il Sindaco di Agropoli? Dice la conquista ve la togliete dalla testa, di fatto ha fatto questo, la conquista ve la togliete dalla testa perché gli standard, li stabilisco io insieme all'ufficio lavori pubblici, vedo solo la capienza dell'edificio indipendentemente da quanti metri quadrati ad abitanti io avrei dovuto avere per scuola e non ho, indipendentemente da quanti metri quadrati ad alunno io dovrei avere per ogni scuola e che non ho. Quindi pecchiamo di standard praticamente assoluti relativi alla scuola e di standard relativi ad ogni edificio. Con questo sindaco io la invito, ma poi un'altra domanda che poi non posso concedergli la risposta se no perdiamo ulteriore tempo come ha detto lei, ma un'altra domanda è che ci azzecca poi a scuola Santa Maria delle Grazie? Ammesso che tutto questo discorso sia da concentrare per poter dire che devo liberare la Mozilla, ma perché contemporaneamente stiamo cercando di liberare pure Santa Maria delle Grazie? Questo non lo capirò mai praticamente, per cercare di creare un polo unico così come ha detto Indelibera, ma non lo stiamo creando, atteso il fatto che ove dovesse andare avanti la lettura dell'ufficio lavori pubblici, noi se tre aule ne spostammo più, a Olandolfo non vogliamo spostare addirittura ad esempio a Banara al Moio. Quindi manca questo fine, è perseguibile, a mio modo di vedere. Di conseguenza io la invito, sindaco, a ritirare immediatamente non soltanto la delibera di giunta comunale, ma ogni sua strana idea su un'ulteriore riduzione degli standard urbanistici, specie quelli scolastici, per quanto riguarda la locazione della caserma di pubblica sicurezza. Pensi ad altro, sindaco, altre necessità, altre possibilità da esaminare contestualmente agli standard urbanistici che non vanno toccati. Questo è quando le dovevo dire. Grazie. Grazie a lei, prego, sindaco. Presidente, le interrogazioni sono chiare, 5, 10 e 5 minuti di risposta. Ho esaurito le mie risposte, il sindaco non ha più facoltà di poter intervenire. L'ultima parola tocca all'interrogante e non all'interrogato. La prossima volta non ho nessuna paura, lei non deve intervenire oltre i termini. Presidente, volevo dire che se posso interlocuere col Presidente anch'io. Consigliere Abate, mi sta facendo una domanda. Prego, prego, sindaco. Presidente, volevo dire che in altre occasioni lei ha dato disponibilità all'opposizione di formulare, di parlare, di dare massimo spazio a loro. Credo che 30 secondi, giusto per aggiornare il consigliere Abate, che poi se il consigliere Abate voda a fare un ulteriore intervento perché vuole l'ultima parola, nessuno gliela toglie, consigliere Abate. Non è un problema. Consigliere Abate, noi facciamo questo. Interviene il sindaco e poi può intervenire anche lei. Non ci sono problemi. Grazie. Prego. Volevo soltanto informare il consigliere Abate che per quel che riguarda la situazione scuola ad Agropoli, noi abbiamo implementato il tessuto complessivo di una nuova ala, quindi andrebbero aggiornate anche i dati del PUC rispetto a questa nuova struttura, e una nuova scuola e località mattina. Quindi noi abbiamo aggiunto altri due plessi scolastici difatti alla capacità di accoglienza delle nostre scuole e quindi sostanzialmente non abbiamo fatto altro che migliorare quel dato a cui lei faceva riferimento, perché se il dato è stato calcolato sulla situazione attuale, a oggi abbiamo sia un nuovo plesso alla Landolfi che sia una nuova scuola mattina. Quindi è accresciuta la disponibilità della stessa. Solo questo volevo dire. E rispetto quindi a questa situazione, io ritengo invece che per quanto la scuola possa essere, deve essere considerata l'ultima opzione, non può essere ritirata questa possibilità. Perché noi non credo ci possiamo permettere di perdere questa occasione di avere in città, proprio per la grande ricaduta sociale che avrebbe positiva la nostra città. Quindi ritengo che certamente si terrà in considerazione come ultimo ipotesi sull'utilizzo della scuola, ma non può essere accettata la sua richiesta di stracciarla completamente. Verrà tenuta come ultima possibilità, ma stracciarla no. Prego, Consigliere Abbato. Grazie Presidente. Sindaco, come l'avevo detto prima, lei veramente è consigliato male, molto male. Allora, le leggo che cosa ha scritto il suo progettista del PUC. Il suo progettista del PUC, oltre alla frase che dice le dotazioni scolastiche presentano carenze significative, allega, come è giusto che sia, una specifica tabella. Le scuole dell'obbligo esistenti sono in quadrature, per quadrature intendo dire sia lo scoperto che il coperto, 36.295 metri quadri, in base agli abitanti di quando è partito il PUC, cioè 21.300, per 5 metri quadrati ad abitanti per le strutture scuole dell'obbligo servono 106.000 metri quadrati. Siamo in deficit di 70.230 metri quadrati. Lei ha potuto costruire la scuola in matì, ha potuto allargare, come dice lei, l'area, che poi era stata già presa in considerazione perché l'area è omnia, l'area è omnia quando si fa il PUC, si calcola tutta quanta quella, ci mancano 70.000 metri quadrati. Non metta mano agli standard relativi alla scuola. Grazie consigliere. Terzo punto all'ordine del giorno. Richiesta del consigliere Caccamo al sindaco, trasmessa via PEC in data 21.4, vivibilità località Madonna del Carmine. Consigliere Caccamo, il sindaco, prima che arrivasse lei, ha fatto una premessa. La nota che lei ha inviato, come ben sa, è arrivata proprio ai limiti. Se prendiamo i quattro giorni... Entro o al di là dei limiti? Al di là dei limiti. Il sindaco dà disponibilità nel rispondere, però non credo che sarà esaustiva la risposta. Non so se questo, questo o l'altra, signor. Vi anticipo questo perché è rassente. Sono per il rispetto delle regole, lo verificheremo chiaramente. Quattro giorni prima della donanza, lavorativi, quattro giorni prima lavorativi alla data della donanza. Io l'ho messa comunque. Questo è a conferma che noi... No, no, ma se avete letto le premesse, tra l'altro, di questa prima interrogazione... Ok. Non lo so, volete... Va bene. Io ho fatto questa premessa soltanto... Ok, prego, consigliere. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Finalmente riusciamo a portare un altro punto di programma anche dall'opposizione dentro questi consigli. Noi avevamo promesso in campagna elettorale di portare i cittadini dentro le istituzioni. Con questo question time siamo riusciti a portare tre istanze, direi civiche, che mi vengono non solo dalla mia formazione politica, ma anche da altri cittadini che mi sollaicitavano questioni di vivibilità urbana che accadono nel comune di Agropoli. La prima, in maniera indissolubile, è quella dell'attenzione anche alle periferie. Spesso qua si parla anche, dicendo, delle istituzioni centrali, troppo poco si parla delle periferie della nostra città, che sono anche il cuore pulsante, località mattina con le sue attività commerciali e produttive, Moio con le attività turistiche, tante altre località. Non ci dobbiamo dimenticare anche della località Madonna del Carmine, che è la località dove vivo. E chiaramente, proprio vivendo in quell'area, grazie ai cittadini residenti, con cui ho avuto modo di discutere, siamo venuti alla considerazione di affrontare questioni che potrebbero essere di seconda battuta, ma che invece non lo sono. E' il caso, per esempio, del mercato settimanale nell'area mercataria del GVD. Probabilmente per qualche dimenticanza nella progettazione, probabilmente per un fortunato utilizzo dell'area mercatale, probabilmente anche dovuta ai numerosi stalli, anzi tutti occupati, l'afflusso settimanale è considerevole. Questo cosa comporta? Che l'area di parcheggio è scarsa, che il trasporto pubblico è molto deficitario perché non riesce a sopperire l'afflusso del mercato settimanale. quello che succede è un, consentitemi il termine, un bailam. Cittadini per la strada che camminano, assenza di marciapiedi, viottoli sullo sterrato ricavati per il piedonamento anche a scavalco del guardrail, transiti sulla carreggiata da l'una all'altra parte, bambine, mamma, insomma, chiunque che si è recato al giovedì, in particolar modo, nella località Madonna del Carmine, non vi racconto anche il traffico che i residenti devono chiaramente affrontare in quella data. Noi non vogliamo chiaramente l'allontanamento del mercato, anzi, però vogliamo che vengano implementati quei famosi servizi di cui si parlava nella sua campagna elettorale, sindaco. Ecco, noi tutti vorremmo. A questo si aggiunge i lavori effettuati nella zona Cannetiello, che è un po' più periferica addirittura della zona centrale di Madonna del Carmine, in cui recentemente è stato fatto un intervento di nuovo lo svincolo con la SP45, la strada che porta a Pignano, per intenderci. Ecco, in quell'area è stata cambiata anche l'ordine di scorrimento delle autovetture. Che significa? Si ha questo effetto, ve lo dico perché ne sono testimone oculare. Insomma, gli autisti fanno meno attenzione, conscienziosi che è senso unico, accelerano in maniera maggiore rispetto a quando vi era il doppio senso, allora quando prestavano più attenzione, e in prossimità del nuovo svincolo, appunto, fanno una curva, diciamo, molto molto veloce, quasi che li porta. Allora, se, poi parleremo anche di attenzione e sicurezza stradale. Ci sono questioni veramente da risolvere, ma io l'ho sollecitato anche gli uffici altre volte, so, e anche alcuni cittadini hanno sollecitato, questione da risolvere molto semplice. Allora, chiedo al sindaco che se voglia innanzitutto mettere, appunto, a implementare questi servizi settimanali per quanto riguarda il mercato. Dopodiché chiedo al sindaco chi abbia collaudato quell'area, se nel collaudo verrà anche il cambio di transito e il cambio della segnaletica. Chiedo altresì che venga implementata appunto i servizi e chiedo che venga attenzionata magari con misure semplici, arretrando la segnaletica orizzontale, togliendo, è un'operazione molto semplice, domani mattina la gruppa di servizi, chiamate il direttore generale, va a togliere i segnali che sono contro senso, perché chi esce dalle abitazioni private viene tratto in inganno, c'è ancora la segnaletica diciamo contro senso, quella dovrebbe essere rimossa. Addirittura c'è lo stop sulla salita vecchia e giustamente le persone che abitano in prossimità di quello stop, vedono lo stop e si fiondano verso lo stop, è capitato anche a me personalmente, si fiondano verso lo stop però quello è senso unico adesso. E allora misure molto molto semplici, aspetto una risposta esaustiva da parte del sindaco. Grazie, prego, sindaco. Non potrò dare una risposta esaustiva a questa domanda perché l'ufficio lavori pubblici mancando, come ho detto, la sua richiesta del 21, cioè del giorno di Pasqua, è stata fatta il giorno di Pasqua, quindi giorno di Pasqua, Pasquetta per condare i giorni insieme e in ufficio naturalmente erano chiusi e non potevano conoscere. Poi c'è stato il 23, il 24, unici due giorni disponibili, poi il 25 è ancora festa e il 26 è oggi. Quindi coglierete, spero, la grande disponibilità da parte nostra che in due giorni abbiamo organizzato quanto più possibile le risposte al question time per rispetto vostro, del Presidente, di coloro che hanno necessità di sapere rapidamente tutto ciò che è necessario, però comprenderà che due giorni sono realmente pochi, in particolare nel caso dell'ufficio lavori pubblici dove il funzionario era in ferie. Quindi rispetto ai primi due punti non posso rispondere, non ho la documentazione, rispetto invece alla ultima parte che riguarda la questione proprio dell'incrocio e della viabilità io ho una relazioncina fatta dal Comandante dei Vigili, quindi posso dare risposta. Intende ascoltare questa o ascoltare poi nella completezza eventualmente tutta la risposta? No, allora a questo punto preferirei così perché facciamo decorrere questi quattro giorni lavorativi e poi mi trasmette per iscritto tutta la documentazione comprensiva, se no le dovrei dare una risposta parziale adesso, riproporre un'interrogazione orale la prossima volta e chiaramente noi vogliamo essere collaborativi. Le ripeto, questa interrogazione è uno sprone, la migliore risposta sarebbe vedere quei servizi da parte di quei cittadini che affrontano quei disagi settimanali, quella sarebbe la migliore risposta. Per quanto mi riguarda, ripeto, rispondetemi tranquillamente. Consigliere, rispetto proprio alla, perché lei mi parlava di un'urgenza e qui sarebbe stato grave non rispondere subito, per questo ho chiesto al Comando di un intervento, lui mi segnala che, e ho qui la documentazione fotografica di tutti i segnali che sono nell'area e mi segnala che loro hanno seguito con attenzione l'incrucio e mi dicono che tra l'altro è tra quelli segnalati in maniera migliore, diciamo, in città. Allora, adesso invito tutti i cittadini di Agropoli. Consigliere, le sto dando quello che mi ha detto il Comando dei Vigili, non è una mia interpretazione. No, no, ma io non ce l'ho con le sindaco, non sia per malusso, non ce l'ho con lei. L'interpretazione di quello che il Comando dei Vigili mi ha detto. Se ha terminato, concludo io. No, è giusto completo, quindi, però, voglio dire, certamente mi farò portavoce per dare le risposte per iscritto completo appena torneranno gli uffici, ci mancherebbe altro. Volevo soltanto dirvi che, per quel che riguarda il question time, non è una scelta del Meetup 5 Stelle, né del Consigliere Cacca, né del Consigliere Abba, ma il Consiglio Comunale, nella sua completezza, ha deciso di fare, di dare questo strumento. Perché se non avessimo voluto farlo, avremmo votato in Consiglio Comune negativamente, non si sarebbe fatto. Quindi, voglio dire, tutto il Consiglio ha la volontà di affrontare le questioni insieme, di parlarne, tutto il Consiglio ha la volontà di ricevere degli sproni, insomma. Quindi, quando c'è un merito comune, cerchiamo di lasciarlo. Assolutamente, condivido il merito comune, in questo caso, per aver promotato chiaramente con le riserve che l'altra volta indicava l'ingegnere Abbate. La mia era un'altra cosa, forse mi sono spiegato male. Questa volta le tre interrogazioni sono frutto di istanze che mi hanno portato e segnalo dei cittadini. Io le ho verificate nella loro bontà e chiaramente, tra l'altro, sono anche qua stasera, quindi non faccio i nomi. Avevo risposta compiuta. Io la ringrazio, sì, entro quattro giorni mi manda questa risposta in modo che possa documentare. Appena l'ufficio, io l'ho già girata agli uffici, ce l'hanno già sulla scrivania, il tempo che possa rispondere. Dopodiché, per quanto riguarda la risposta parziale, io se vuole la documento questa sera, anche per le vie brevi, della segnaletica che è contraria in via Cannedino. Grazie, consigliere. Quarto punto all'ordine del giorno. Richiesta del consigliere Caccomo al sindaco trasmessa via PEC in data 21.04.2019. Gestione Autovelox. Prego, consigliere. Anche questa è un'interrogazione voluta da tanti cittadini che si chiedono, a seguito delle altre interrogazioni, degli altri interventi in Consiglio Comunale, ma questi 3 milioni e mezzo dell'Autovelox, in un solo anno chiaramente, ma che fine hanno fatto? La provincia ne ha chiesti 1 milione e 2, che è il dividendo sostanzialmente di quei 2 milioni e 4, 2 milioni e mezzo che sono considerati come dei proventi. 3 milioni e mezzo invece sono considerati come delle spese. Con questa interrogazione, molto semplicemente, chiedo, tra l'altro è un'informazione che avrei evitato di portarla in Consiglio Comunale, perché ne avevo semplicemente chiesta agli uffici competenti, perché è un'informazione molto tecnica, a cui volevo rispondere con delle carte semplicemente a chi me le sollecitava. Purtroppo, non avendo risposta né alla prima domanda né ai solleciti, chiaramente ho dovuto portare la questione in Consiglio Comunale, dove chiaramente non credo che il Sindaco ci farà mancare la risposta. No, questa questione l'abbiamo seguita con attenzione, quindi abbiamo tutta la comunicazione già portata di mano, non c'è stata necessità di un'istruttoria come è successo nel caso di internazione precedente. E quindi, molto semplicemente, vi darò i dati, perché poi è molto semplice il ragionamento che è stato fatto. Per quel che riguarda l'autovelox, l'incazzo netto delle sanzioni anni 2014-2016, quindi sono tre anni, è di 5 milioni 927. Le spese sono così ripartite. 1 milione 800 era la spesa per il consorzio Gives che gestiva l'appalto, 1 milione 376 le spese postali, 1 milione 8, 1 milione 3, 60 mila euro la lettura delle targhe tramite l'ACI, 256 mila euro il personale, 56 mila euro gli incarichi per difendere l'operato dei vigili urbani presso il tribunale e quindi le spese ammontano a 3 milioni e mezzo. Tolte queste 3 milioni e mezzo rimangono 2 milioni e 3 che andava diviso per due tra noi e la provincia. Abbiamo trovato un'intesa con la provincia rateizzando questa spesa e abbiamo versato fino ad ora 100 mila euro. Nella sua interrogazione si fa riferimento in particolare al lavoro dei vigili urbani e si chiede se i vigili urbani abbiano incassato qualche cosa da questo lavoro che è stato fatto. Stesso, manca a farla apposta, stessa valutazione errada che hanno fatto anche altri rispetto a questa situazione e cercherò anche qui di spiegare in maniera molto semplice. Ogni vigile, perché l'ufficio ha deciso, penso giustamente, di ripartire il lavoro che riguardava l'autovelox per ogni componente del corpo. In particolare, se vuole il dettaglio, abbiamo calcolato sostanzialmente che l'allora comandante Crispino ha svolto parte della sua attività, in particolare il 15% perché era necessario quantizzare la sua attività, l'ha dedicata all'autovelox. L'attuale comandante di Biasi e il capitano Cauceglia, il 20% dell'attività dell'autovelox, e tutti gli altri vigili, un 10% del loro tempo che hanno destinato a seguire l'attività dell'autovelox. Grande lavoro è stato fatto da parte dei vigili e mi complimento veramente, non c'era stata ancora occasione di farlo, ma mi complimento veramente con il capitano Cauceglia che, diciamo, non solo ha seguito l'attività, ma in particolare ha difeso gratuitamente presso il giugno di pace in decine, per non dire centinaia, insomma, di posizioni che sono state fatte, risultando sempre vincente. Quindi quando, diciamo, si dà il caso bisogna pure dire bravo a chi ha fatto un ottimo lavoro e mi complimento con lui. E praticamente è nessuna con benzo aggiuntivo perché loro, nell'ambito del loro lavoro, hanno dedicato parte del loro tempo a seguire l'attività dell'autovelox. Però questo lavoro è comunque un costo che il Comune di Acopola ha sostenuto. E' atteso che la provincia aveva di fatto per l'attività dei vigili un, tra piccolette, guadagno, per spiegarlo in maniera pratica, era giusto che sostenesse anch'esse il costo del lavoro dei vigili. Quindi lo stipendio del vigile è rimasto lo stesso, perché noi nella sua attività si occupavano anche di questo. Ma la provincia doveva rimborsare parte di quel lavoro perché è stato dedicato a un'attività che ha portato utile anche alla provincia. Ecco perché noi abbiamo quantizzato, come le ho detto, in maniera percentuale, venendo fuori che il compenso, il costo complessivo del personale era, rispetto a queste preceduali che ho appena detto, veniva a 256 mila euro, che giustamente è stato portato a costo nel calcolo complessivo che abbiamo fatto e documentato alla provincia. Ci è sembrato, anche la provincia inizialmente ha contestato questo dato, poi ha dovuto venire ragionevolmente a accettare il nostro ragionamento perché era corretto che parte di questa spesa che noi sostenevamo veniva compensata, veniva tolta dal costo complessivo. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione. Qui ho anche tutto il dettaglio delle spese singolarmente. È una relazione che mi è stata fatta da parte del comandante della Polizia Municipale. Se vorrà potrà tranquillamente ritirarla in segreteria. Grazie, Sindaco. Sì, non era la risposta che volevo, sia dagli uffici sia in Consiglio Comunale, però mi rendo conto che, data la brevità, non si poteva fare diversamente. Chiedo però agli uffici che chiaramente mi dettaglino analiticamente quelle che sono le macro voci. Chiedo al Segretario Comunale di sollecitare... Ce l'abbiamo, le puoi ritirare, tranquillamente. Analitico, il dettaglio analitico? Analitico, analitico, ce l'abbiamo. Quindi lei ha... Voce per voce. Ah, ok, perfetto. Perfetto, quindi lo posso ritirare... Tranquillamente. Anche stasera, magari. Non lo so, chiedo. Stasera, non so se c'è il rispondimento della ragioneria. Chiedo al Segretario. C'è anche voledì, c'è anche martedì, insomma. Tentare, come dire, cioè, voglio dire... Stasera gli uffici sono chiusi, oggi è venerdì, consigliere. Stasera se posso ritirare questa copia. Ho chiesto al Segretario se posso ritirare questa copia questa sera. Se il Sindaco mi passa il documento... Ok, va bene, consigliere. Questa relazione che ho io la posso già prendere. No, se la posso ritirare. Eccola qua. Visto che la risposta è sottoscritta, me la porto. Eccola qua. Dopo. Dopo, dopo, dopo. Quindi, no, allora, ho detto, la risposta per macro aree, ve l'ho detto io a voi. No, per semplificare, per spiegare il concetto. E' dettagliato, c'è tutti i dettagli. Chiaramente io voglio entrare poi nel merito, con i cittadini, chiaramente, delle spese, perché, chiaramente, alla gestione politica dobbiamo anche portire la nostra, nelle quote che ne ci competono. E allora, si parlava prima di ASI, di scuole, e parliamo di importi, per adeguare, non lo so, si parlava dell'importo, dell'adeguamento della scuola, anzi, dell'ex Croce Rossa, del Commissario di Polizia. Consigliere, di che cosa stiamo parlando? Di importi. Io, guardate, faccio il mio intervento nei cinque minuti che mi competono. Ma... E no, Sindaco. Pure io posso parlare di quello che voglio quando faccio l'intervento. All'interrogante sono io, quindi lei parla di quello che... Sì, però voglio dire, ci abbiamo un argomento. Cioè, io pure io posso prendere i miei dieci minuti e dico quello che voglio. Allora, dite che... Mi dovrei attenere alla risposta all'argomento. L'intervento in Consiglio Comunale, stiamo pure evitando di venire e romperevi le scatole. State facendo quello che volete, non ne facciamo. Come? Sui social non possiamo parlare, se noi ci facciamo senza anche oppure i social. Veniamo in Consiglio Comunale, ci facciamo politica. E allora, fatemi concludere, cinque minuti. Poi, vedete, io sono... Sui social. Serenamente. Sindaco, facciamo concludere, poi sono i cittadini a valutare. Stavo facendo dei tempi, mi pare uno, perché se poi parliamo di un milione e otto al Consorzio Gives, insomma, se un milione e ottocentomila euro, ragioniamoci che c'è... Pare che sicuramente ci sarà l'appalto, sicuramente sarà tutto regolare, non voglio discutere di questa cosa. Però sono cifre importanti che noi esternalizziamo a un'azienda privata, chiaramente. E questi sono soldi che sono detratti dal bilancio comunale, perché questi entrano prima e poi li tiriamo fuori. Non è che il Consorzio Gives ci sta regalando nulla. Fa impresa e ha vinto un appalto per un milione e ottocentomila euro, su cui potremmo e dovremmo discutere se... è possibile ridurre, è possibile riappaltarlo, è possibile... Ehi, consigliere, la voglio evitare. Posso intervenire così lei vedo una brutta figura? Sì, ma ci mancherebbe. Io non sono... Già da tempo vi ho raccontato, vi ho spiegato che ormai da tempo il Consorzio Gives ha chiuso i rapporti con cui... E già da tempo la gestione è stata internalizzata con l'agropoli cilento servizi, ottimizzando così la spesa a vantaggio del lento e riducendo... Quindi questo milione e ottocentomila euro è stato transitato... È una cosa vecchia, le ho detto anni... Allora, visto che io non lo prendo adesso... 2014-2016... Quindi questo un milione e otto è transitato dall'agropoli cilento servizi? No... Consorzio Gives ha avuto un appalto negli anni 2014-2016, poi è finuto. Poi abbiamo... Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa virtuosa, abbiamo capito come si faceva, cioè abbiamo tra virgolette imparato il mestiere tra virgolette e abbiamo detto benissimo, questa cosa può non essere appaltata all'esterno, può essere gestita internamente con evidenti guadagni da parte dell'ente e quindi la gestione è passata ormai da tempo all'agropoli cilento servizi con una riduzione drastica delle spese e un vantaggio per il Comune di Agropoli. E quindi abbiamo fatto qualcosa di virtuoso. Ma per quanto lei ne sappia, Sindaco, io non voglio fare il dibattito, la risposta rapida è transitato anche dal personale dal consorzio Gives all'agropoli cilento servizi per gestire questo servizio. L'agropoli cilento servizi, come lei sa e come abbiamo sempre detto, il personale lo prende dalle società interinali. E quindi gli assunti da queste società interinali, che a lei risulti, può anche non risultarle, è stato personale precedentemente impiegato presso il consorzio Gives? Il personale impiegato doveva essere un personale che doveva avere le caratteristiche e l'esperienza per gestire quel servizio. Quindi questo è quello che ho verificato. E sì e no. Non lo so, non lo sa. Non sa se ci sono del personale che stava al consorzio Gives. Ma cosa vuole dire, consigliere Cacca? Se vuole dire qualcosa, lo dica. No, io faccio delle domande. Se non lo dica, consigliere Cacca. Faccio delle domande. Le sto dicendo, la Coppoli Centro Servizi appalta tramite le società interinali dei servizi, fa dei bandi, pubblica questi benedetti bandi, vengono fatte le procedure e vengono selezionate il personale più adatto. In generale, quello che ha fatto la Coppoli Centro Servizi è certamente ottimizzato il personale interno. Cioè attualmente nell'ufficio alcune persone che lavoravano in altri settori hanno ottimizzato il loro lavoro trasferendoci dall'ufficio, per esempio, manutenzione all'ufficio verbale. Cioè ottimizzando il servizio andando a utilizzare molto poco l'aspetto di stendrina. Questi profili professionali sono usciti fuori da una selezione, sono documentabili, possiamo accedere ai curriculum? Sempre, tutto documentabile e tutto trasparente. Quindi possiamo accedere ai criteri di selezione e possiamo valutare anche il curriculum. Assolutamente sì. C'è una nostra valutazione politica dei curricula, che l'agropoli Centro Servizi impiega. Ma la valutazione curricula la fa la società che... Certo, certo, la società interinale che non si sa però dove faccia questa selezione. Lei fa, pubblica gli avvisi. Sì, ma fisicamente il colloquio dove lo fanno? Eh, consigliere... Se l'hanno fatto il colloquio, non lo so. Certo che l'hanno fatto il colloquio. E hanno le loro sedi, hanno le loro sedi la società interinale. E mi fa una domanda, allora lei mi faccia un'ulteriore domanda e mi dice Sindaco, io non posso sapere dove una società interinale ha la sede? Cioè penso che il Sindaco... Se è personale invitato... Credo, se deve arrivare anche a questo dettaglio di conoscenza, anche dove la società interinale, che lavora per una società partecipata del Comune, sappia dove ha la sede, penso che o sono mandraghe... Però siccome credo che ci sia stato un bando di pubblico, un avviso pubblico, no, la cittadinanza di Agropoli e di altrove sarà stata invitata a fare il colloquio, le selezioni... Ah, sempre lo stesso ragionamento. Consigliere, consigliere, vogliamo giudere per cortesia perché altrimenti... Vabbè, se il mio tempo è terminato, concludo e chiedo chiaramente l'elenco analitico che poi ritiro dal segretario. Quinto punto all'ordine del giorno, richiesta del Consigliere Cacma al Sindaco, trasmessa via PEC 21.4.2019, elenco mutui. Qui, se il Consigliere accetta, se accetta il Consigliere, che l'altra volta non è stato possibile, sempre in una logica di collaborazione e di cercare di essere disponibile a rispondervi subito, ho chiesto all'assessore Montalipassi di aiutarmi a seguire lui questa interrogazione. Può conferire lui? Perché l'altra volta facevo una discussione. Su questo mi... A me interessa, come dire, non la forma, ma interessa sapere il contenuto perché... Ma non che interessa a me personalmente. Allora potrò rispondere... Ripeto, queste tre interrogazioni mi sono state compulsate un termine... Benissimo, no, io mi rifiuto all'atto. Quindi può rispondere... Ora, o mi rispondete per iscritto, per i termini che dite voi. Ah, bene, bene. No, 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 perché l'altra volta non è stato possibile. O mi rispondete ora, datemi delle risposte, su cui farò, chiaramente, insieme al mio gruppo politico, che mi seguire le vostre società politiche. Sono contendo che questa volta è possibile. No, allora, l'altra volta è un altro ragionamento. Deve intervenire, non ho fatto. È un altro ragionamento. Per cortesia, consigliere Abbate. Allora non facciamo riferimenti e allusioni inutili. Va bene, grazie, consigliere Abbate. Prego, consigliere Caccamo deve illustrare... Vabbè, la domanda è molto semplice questa volta, perché da sempre, dall'inizio della nostra consigliatura, abbiamo seguito le vicissitudini finanziarie. In qualsiasi caso, chiaramente, prima di pagare una bolletta, noi cerchiamo di trovare le provviste per poter finanziare i soldi, insomma, per poter pagare le bollette, il pane, l'acqua, il muto, eccetera, eccetera. E quindi questa è una gestione finanziaria domestica che ognuno di noi ha a cuore. Tra l'altro, nella gestione della nostra contabilità domestica ci sono anche numerose e cospicue imposte comunali a cui noi tutti dobbiamo fare ronde e la maggioranza dei cittadini, per quanto ne so, li affronta con regolarità. Ora, qualche cittadino magari ritarda nei pagamenti, anticipo io stesso, ritarda nei pagamenti, è un po' moroso, qualcuno che sfugge per difficoltà prove o anche per una sorta di responsabilità che questi cittadini hanno, contribuenti in questo caso qua, eludono le maglie del fisco comunale. E quindi chiaramente la tecnica degli enti locali è quella di, come farebbe qualsiasi padre di famiglia, dobbiamo mandare avanti i servizi, come paghiamo gli stipendi, come paghiamo i servizi, come paghiamo le forniture, i soldi li trovo, possibilmente nel mio istituto di fiducia e quindi ci rivolgiamo in banca. Poi chiaramente, e quindi l'elenco dei mutui, l'elenco dei mutui che ho richiesto stasera, che non solo si specifica appunto nella realizzazione di un'opera pubblica, perché spesso anche nella vostra campagna elettorale, non ci dovevamo permettere di parlare di debiti, perché la parola deve usare è un investimento, su cui io sugli investimenti condivido la tecnica politica, retorica, la condivido. Chiaramente poi dobbiamo discutere degli investimenti. Stasera voglio sapere i soldi che abbiamo preso in prestito per, non solo per opere pubbliche che sono visibili a tutti, ma anche per, appunto, le anticipazioni di liquidità, ma anche per le spese di manutenzione. Insomma, l'assessore avrà letto sicuramente l'interrogazione, la parte più tecnica, e quindi fare anche qua un bel elenco analitico, se c'è la parte scritta, chiaramente, li dirò anche la parte scritta. E poi, alla fine delle valutazioni, quando poi abbiamo fatto il monte dell'indebitamento e perché ci siamo indebitati, la domanda è, con un occhio rivolto alle future amministrazioni, alle future generazioni, quanto è ad oggi il nostro platform che ci permette un'ulteriore spinta sull'acceleratore degli investimenti, dei servizi, eccetera, eccetera, tutte le cose che si fanno chiaramente con i soldi. Prego. Buonasera a tutti. Innanzitutto faccio una precisazione, consigliere Caccomo, per quanto riguarda i mutui, il testo unico, il decreto degli enti locali, il decreto del registro 267-2000, all'articolo 202, precisa chiaramente che gli enti locali possono contare mutui esclusivamente per spese di investimento, quindi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di aria. Quindi non è in nessun caso possibile, a contrarre i mutui per sostenere spese correnti, per pagare spese correnti o per lavori di manutenzione eventualmente del patrimonio comunale. Detto questo, l'unico caso che l'ente Comune di Acropria ha attinto, ma c'è stata una normativa speciale, nell'anno 2013, il decreto Renzi emanò, il decreto del 2013, sì, il decreto Renzi emanò una disposizione che dava possibilità ai comuni di attingere a un'anticipazione di liquidità per poter pagare i debiti che gli enti locali avevano nei confronti di imprese e quindi in questo caso quel montare di somma capitale poteva essere utilizzato per il pagamento anche di debiti relativi a spese correnti. Nel complesso, ad oggi, il Comune di Acropoli ha un ammontare dal primo di quelli esistenti ancora alla data del 12 dicembre 2018, dal primo contratto in data 8 maggio 1968 all'ultimo contratto in data 27 dicembre 2016 di circa 110 mutui attualmente ancora vigenti. 110 mutui. Di questi, alcuni sono stati rinegoziati nel corso degli anni scorsi perché la Cassa Deposersi ha dato la possibilità di usufire della negoziazione perché nel tempo sono diminuiti i tassi di interesse e quindi l'Ende ha approfittato della rinegoziazione per spalmare ulteriormente il debito in 30 anni ma anche per pagare meno interessi. Ad oggi, di questi 110 mutui ancora vigenti, l'ammontare chiesto a prestito sono 37 milioni 510 mila 902 euro. La quota capitale è chiesta a prestito. Della anticipazione di liquidità di cui parlavo prima del decreto legge 35 2013 all'epoca il Comune ha chiesto a finanziamento 10 milioni 605 mila e 681 euro. Ad oggi, alla data del 31 dicembre 2018, lei mi chiede al terzo punto l'indicazione del valore capitale totale attualizzati e ancora da versare. per quanto riguarda i mutui per gli investimenti, abbiamo alla data del 31 dicembre 2018 un residuo debito di 30 milioni 562 mila 472 euro e per il debito di cui ha il decreto legge 35 2013 una quota capitale da rimborsare di 8 milioni 248 mila 588. al quarto punto le micchie dell'importo complessivo delle rate nel bilancio 2019 noi abbiamo previsto quindi verranno pagate nel corso dell'anno 2019 rate per complessivi 2 milioni 612 mila 835 di cui 974 mila 858 per quota capitale e 1 milione 637 mila 977 per quota interessi. Poi lei mi chiede quante e quali ipoteche o diritti reali di garanzia sussistono su questi mutui e le posso dire che l'unico mutuo ipotecario è quello di cui l'ente al fine anno 2018 questo Consiglio Comunale si ricorderà ha quello dell'accollo del mutuo dell'acquisto del Castello dalla precedente società di trasformazione urbana dalla Stu quindi è l'unico mutuo di cui oggi il debito di esito è di 2 milioni e 566 mila è l'unico mutuo garantito da ipoteca che ha l'ipoteca e lo stesso bene immobile. Quel mutuo non è stato ancora negoziato però io si approfitto per dirle che devo rispondere alla sua questione che mi ha fatto via PEC perché non è stato ancora oggetto di negoziazione nonostante vari tentativi con la banca però in data prima aprile è scaduta questa è solo un attimo dall'interrogazione è scaduta una manifestazione di interesse che l'ente ha fatto per ci sono stati due partecipanti che nei prossimi giorni verranno invitati per formulare l'offerta quindi conosciamo l'ufficio in questo momento non ricordo i negativi dell'impresa saranno pubblici i due assolutamente dovranno essere poi invitati per formulare l'offerta poi lei mi diceva qual è il profondo disponibile per il nostro ente nonostante queste cifre possono sembrare esorbitanti però c'è sempre il testo unico che prevede all'articolo 204 in questo caso che gli enti locali possono contrarre mutui quando la loro capacità di spesa questi mutui la loro capacità di spesa a titolo di interessi su questi mutui sia attualmente pari al 10% delle entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato in questo caso l'anno 2017 le entrate correnti dell'anno 2017 sono circa 22 milioni quindi l'ente potrebbe sostenere contrarre mutui sui quali pagare interessi per circa 2 milioni e 226 mila euro in soldoni l'ente a oggi potrebbe avere una capacità di ulteriore interabitamento per circa altri 24 milioni e 700 mila euro spero di essere stato chiaro stiamoci attenti verrebbe detto va bene allora io la ringrazio della risposta e chiaramente recupero questo diciamo documento scritto anche perché la materia è molto tecnica e non vorremmo scivolare su bucce di banana quindi noi la nostra attività politica la faremo sui dati che lei chiaramente ci dà su cui chiaramente faremo le nostre azioni le verificheremo eccetera eccetera perché ci compete non per altro alcune cose però chiaramente sono da discutere subito allora abbiamo 37 milioni di opere pubbliche poi non ho capito bene la quota a parte però di acquisizione immobiliare perché mi era sfuggito prima e rientra nei 37 non le posso dare un dato preciso perché questo comporterebbe sul 110 sul 110 perché poi i mutui ancora in essere su ogni mutuo bisognerebbe capire la progettualità di quel mutuo perché la progettualità di quel mutuo prevede eventualmente anche una quota destinata all'acquisizione di aree sulla quale può realizzare l'opera pubblica stessa non so se se sono stato chiaro in questa esposizione il mutuo è funzionale la realizzazione di tutta un'opera pubblica di cui però in quell'opera pubblica ci può essere eventualmente l'acquisizione di un'area non c'è un a parte il mutuo per l'acquisto del castello però all'epoca dei fatti non fu stipulato dall'ente quindi in quel caso specifico per l'acquisto di un bene immobile a se stanno non le riesco a dare compilizzazione quanto di questa quota di 37 milioni e disp di mutui contratti dall'ente siano specifici per l'acquisizione di aree e quanti per la realizzazione di opere quindi sono complessive sono complessive assolutamente questa è la specifica che volevo comprendono sia le acquisizioni anche di semplici terreni al momento sia la realizzazione di opere magari già terminate su cui noi chiaramente pagheremo i mutui per i prossimi anni sarebbe interessante poi se arriva guardare di questi 110 qual è la più lunga scadenza ma non lo voglio chiedere adesso se c'è anche questo dato lo prendo dopo ma sono tecnicismi perché comunque rimane la quota importante della rata annuale su cui è curioso vedere che ho preso che quasi una buona metà è dovuta agli interessi quindi sostanzialmente si potrebbe dire che purtroppo gli interessi gravano sulle opere pubbliche quasi il doppio rispetto al valore dell'impresa stessa è una considerazione politica sono mutui a delegato come tutti i mutui ha delegato l'assessore come tutti i mutui si si anche il mutuo di casa mia certo ma io queste considerazioni le ho fatte anche penso che non è che è una cosa diversa il question time mi è stato sollecitato dai cittadini stasera devo fare anche come dire le cose un po' più semplicistiche magari anche se le so per far capire chi mi ha sollecitato queste questioni consigliere cerchiamo di chiudere così riusciamo questa è stata un po' più dibattuta presidente giusto per questo però chiaramente io poi mi prendo i dati quindi il platform può essere ampliato e questo lo prendiamo quindi e invece del castello su cui rimangono circa 3 milioni di euro 2 milioni 2 milioni e qualcosa 2 e mezzo questo mutuo sarà rinegoziato sarà rinegoziato quindi ci sono due istituti candidati diciamo così a darci condizioni diciamo di pagamento di interessi più bassi rispetto a quello che paghiamo che oggi è del 3-4% quindi il 6% che oggi chiaramente è molto alto quindi ci auspichiamo che questi due istituti facciano una bella concorrenza per avere una cosa però è chiudo Presidente chiudo su questo elenco mutui chiaramente ci sono 37 milioni anche di ipoteche o altri sistemi di garanzie assolutamente l'ipoteca è soltanto sul mutuo che abbiamo acquisito che ci siamo accollati come interlocale quello relativo all'acquisizione del castello quindi l'unica ipoteca che ha il comune di Agropoli come istituzione questo lo diciamo ai futuri amministratori a chi vorrà assolutamente sì è solo quello relativo all'acquisizione e quindi chiaramente l'unica ipoteca da tenere perché di quel mutuo del castello non è che voglio sindacare anche le sue attività professionali di cui ho più volte dato stima chiaramente un'ipoteca significa anche una maggiore attenzione al pagamento della relativa rata perché il sindaco l'altra volta diceva noi non abbiamo pagato la provincia di Salerno per pagare altre cose sono scelte politiche di cui ognuno si assume responsabilità chiaramente cerchiamo di essere sempre chiunque sia l'istituto dei ridi due cerchiamo di essere sempre molto puntuali e un invito di un faccio e chiudo alla rata del castello altrimenti se no con l'ipoteca il castello lo perdiamo grazie consigliere sesto punto all'ordine del giorno richiesto del consigliere Botticchio al sindaco assunzione società speciale agropoli servizio qui presidente non sono riuscito a documentare perché non è dovevo interpretare la società e quindi non c'è stato il tempo di farla se la possiamo rinviare questa consigliere Botticchio il sindaco non sono riuscito a documentarmi perché vabbè a limite gli leggo tutto quello che io ho istruito così si documenta bene per la prossima no non c'è bisogno perché già ho la interrogazione non si può fare così allora io intanto la domanda gliela può fare il sindaco gli fa la domanda così la prossima la prossima volta si prepara prego consigliere Botticchio non è che si prepara consigliere Botticchio no gliela metto agli altri eh no non deve dire si prepari non cominciamo consigliere Botticchio e vabbè lei non incomincia offendere no lei ha detto si prepari perché eh sì perché è vero che non è preparata a niente dice che è ritardo ah non sono preparata a niente lui da in ritardo e c'è tutti in ritardo simma cioè una volta che siamo seduti qua lei fa un'interrogazione fanno decine di interrogazioni giusto due giorni di tempo due giorni di tempo per rispondere acquisire atti dagli uffici cioè mi sembra il regime di Ciausesqui cioè che alla fine ci devono tenere proprio stretti e basta e basta e finiamola allora se ne va il sindaco mi fa un piacere così quantomeno presidente mi ascolti allora la consigliera comunale l'ha sottoscritta con la presente atto formalmente interroga il sindaco che se ne è andato grazie per l'educazione dottor Adamo Coppola sulla seguente vicenda l'azienda Agropoli Cilento Servizi come da elenco c'è un bel elenco un bel elenco ci sta qua poi andremo alla corte dei conti perché faranno i conti con la corte dei conti l'azienda speciale Agropoli Servizi da elenco che si allega e prende altro perché poi lascerò tutto al segretario ha un numero inorganico di 77 lavoratori però ne può avere solo 20 20 sono a tempo indeterminato cioè la Cilento Agropoli Servizi società municipalizzata del comune ha 20 dipendenti a tempo indeterminato e 57 somministrati da un'altra società Tempor e qualche altro i somministrati non possono stare perché non devono superare il 30% dei 20 assunti che vuol dire che ne poteva avere massimo altri 6 però guarda caso sono 77 cioè qua si fanno voti ma tanti voti perché qui avere 57 persone senza anche il figlio di Santo Suosso mai assunto cioè Pizzepigliano per festa pure tra di loro perché non è stato mai assunto e dovevano assumere no io l'otto per il figlio di Santo Suosso l'otto cioè anche Vanna neanche Vanna è stato assunto neanche Vanna come assessore non sono assunti però fanno i concorsi altrove cioè dove fanno i concorsi dove poi vengono assunti quelli che giustamente più stretti ancora quindi Santo Suosso e Vanna non sono stretti perché ci sono i strettissimi i strettissimi sì gli stretti no no qua non è questo è importante io faccio politica seria tanto per incominciare mi dia quei due minuti cinque minuti che mi deve dare io faccio politica per la gente io sono qua e sapete quante volte mi arrabbio pure dico ma chi mi ha chiamato perché le cose a me piace farle per voi io ho scelto la lega ma perché secondo voi ho scelto Salvini perché un giorno voglio che Agropoli abbiano i diritti tutti tutti voi tutti li dovete non si può vedere uno scempio di 57 persone che non sono state mai assunte dovevano essere assunte prima l'ho figli un nome a caso Donatella Santo Mauro sono anni che stai tributando consigliere Botticchio perché non è stata assunta e quindi questo è quello che non va è inutile che sia inutile che il sindaco mi odia non deve odiare me deve odiare il metodo che loro assumono per governare la città non è modo di governare questa la città qui si fanno voti questa è una fabbrica la dobbiamo togliere la Corte dei Conti si farà i conti con voi perché qui in più ci sta un articolo di legge io glielo leggo mi scusi Presidente però mi dia qualche minuto anche a me ecco vado avanti in organico sono 77 lavoratori la Cilento Agropoli Servizi società somministrante attraverso i rapporti denopilati staff-lasing le normative vigenti in materia di somministrazione di lavoro rappresentate dal decreto legislativo numero 81 io parlo con le carte non parlo a bambara il quale articolo 31 regolamento del contratto lavorativo cosa vuol dire che il somministrato in un lasso di tempo deve essere messo deve essere regolarizzato a tempo indeterminato quindi non sono contro questi 57 però perché queste 57 persone non sono state assunte a tempo indeterminato e allora io mi pongo il problema come consigliere comunale perché quelle persone e anche vedi Santo Sosso questo momento io difendo anche suo figlio perché suo figlio deve essere assunto non può stare anni e anni come somministrato cioè la società somministrante su che cede questi dipendenti alla ditta utilizzatrice che è la Cilento Servizi quindi qua non va hanno violato la legge e io chiedo le dimissioni chiedo le dimissioni del direttore generale dell'agropoli servizi del dottore Capozzoli che non è presente chiedo le dimissioni di Mimmo Gorga presidente che non è presente chiedo le dimissioni del dottore Sandangelo che non è presente chiedo le dimissioni questa è una cosa perché verrà la corte dei conti perché qui c'è una violazione grande e verrà anche l'ispettorato del lavoro dovevate mettere in regola queste persone e avete fatto dei concorsi nei paeselli i mesi di agosto quando i cittadini non partecipano e vengono assunti i vostri strettissimi questo è un abuso di potere sulla città di agropoli vergognatevi consigliere Botticchio mi risponde il sindaco è tornato settimo punto all'ordine del giorno già risposto consigliere settimo punto all'ordine del giorno richiesta del consigliere Botticchio al sindaco assunzione società igiene urbana prego consigliere anche qui allora l'ammontare la sottoscritta in qualità di consigliere chiede interroga sempre il sindaco che poi non gli sono manco simpatica quello è il problema a me sì io fuori da questo scanto col sindaco posso andare al bar è quello che loro non superano loro non superano perché loro la fanno col fegato io la faccio con la mente la politica loro la fanno col fegato la facessero con il fegato loro non col mio l'ammontare annuale delle spese per il personale della società speciale Agropoli Cilento Servizi il numero di unità di personale stabilizzato dipendenti diretti della società l'indicazione se si è assunto a tempo pieno forse un'altra forse un'altra questo ah questo ho fatto quella della Cilento l'ho confusa e vabbè no ma no perché ho letto l'altra mi scusa e vabbè qual è sbagliare umano perseverare di apolico sono preparato però bravo è preparato perché se le ha lette bene probabilmente l'ammontare annuale l'ammontare annuale ha già usato una volta guarda una poca questa proprio mi perseguita tienila qua già lui la tieni tu così non mi perseguita allora chiedo al sindaco se sia stata applicata la clausola sociale per tutti gli operatori già impiegati dalla società di igiene urbana e se qualora è stato questo passaggio integrale cioè di tutti quanti gli operatori se ci siano state delle procedure selettive visto che da Sarim da Iele siamo passati a Sarim la società dei rifiuti diciamo ha cambiato gestione e quindi se le risulta che l'attuale società appaltatrice faccia ricorso a cooperativo o personale interinale in supporto alle attività svolte se i pagamenti della società Sarim sono costanti e regolari e pertanto dei ritardi rispetto alle scadenze quindi una domanda penso che il sindaco è semplice è semplice questa qua sindaco l'altra non lo so io ho chiesto le dimissioni di tutto il CDA allora voglio tranquillizzare il consigliere Bosticchio lei mi è molto simpatica simpaticissima tanto è vero che ci conosciamo da una vita abbiamo anche una origine lo puoi dire forte un'origine di Pignano quindi ci metterebbe altro certo siamo anche un po' mare io devo capire e questo è un problema mio con me stesso che il suo atteggiamento di totale disprezzo di legge dell'organizzazione del Consiglio Comunale non deve essere visto da parte mia come un reale cattiverio ma come un fatto simpatico quindi se la mettiamo sotto questo punto di vista ok la cosa può funzionare quindi prendiamola con simpatia i rapporti umani esulano dalla mia azione politica e amministrativa sempre è la gente che mi gira la faccia che non mi saluto io amo tutta la città per me gli abitanti di Agropo sono tutti uguali consigliere faccio parlare il sindaco non metto non metto in dubbio questo io ho detto soltanto che il suo atteggiamento in Consiglio secondo me non è secondo me non è corretto e quindi proprio per la grande simpatia prenderò le sue affermazioni in maniera coriardica e simpatica altrimenti dovrei agire diversamente detto questo quindi grande simpatia verso il consigliere Botticchio confermo che per quel che riguarda la trasferimento dei dipendenti dalla società Iele alla società Sarim c'è stato un passaggio di cantiere seguito con diversi incontri così come la legge prevede in collaborazione con i sindacati con i legali rappresentanti della società Iele le società Sarim dell'amministrazione comunale dell'entalpattante del RUP che svolge quindi queste riunioni sono state numerose proprio per garantire atteso che comunque la situazione in quel momento particolare quando si è svolto il passaggio di cantiere era complicato in quanto la società Iele non aveva rappresentanti in quel momento che potessero partecipare alle riunioni per tutta una serie di problematiche che conoscete avrete appreso dei giornali ma si è svolta in maniera compiuta il passaggio di cantiere i dipendenti naturalmente avevano delle caratteristiche ben precise stabilite dalla legge quelli che rientravano in certi tempi di assunzione in certi tempi di presenza sul cantiere quindi ben chiare che i sindacati hanno controllato validato tutto questo è passato dalla prefettura cioè tutto il percorso è stato fatto come la legge prevede approvato poi da verbali eccetera il Comune di Coppola è però andato oltre questo nel senso che si è preoccupato anche non solo di prendere quelli che vengono chiamati i cantirizzati ma mettere mano come primo Comune nessuno l'aveva ancora fatto agli cosiddetti intercantieri cioè quei dipendenti della società che lavoravano su più cantieri vi spiego la società di ELE aveva naturalmente una serie di comuni e degli operai che lavoravano nelle singole città ma c'erano dei dipendenti in particolare degli impiegati che lavoravano nella sede centrale e lavoravano quota parte per ogni comune e quindi con grande disponibilità il Comune di Coppola è il primo comune che ha fatto questo cosa ha fatto? ha deciso in collaborazione sempre con i sindacati entrando in quello che la legge prevede ha anche acquisito la percentuale di intercantieri che spetta al Comune di Coppola cioè a dire se i dipendenti dell'AELE degli uffici erano 15 e devono essere divisi per Comune perché la distribuzione poi non è che possono rimanere così devono essere poi distribuite negli enti noi abbiamo anche acquisito con grande soddisfazione dei sindacati anche gli intercantieri i due che spettavano alcuni di Coppola quindi abbiamo penso fatto un'operazione da un punto di vista sociale assolutamente apprezzabile e abbiamo avuto naturalmente anche da parte dei sindacati diciamo i complimenti proprio per questa volontà di fare le cose nella maniera migliore inoltre confermo che la SARIM non utilizza né società interinali né cooperative ma le assunzioni delle stagioni li fa direttamente così come prevede il contratto con assunzioni quadrimestrali quindi che vanno a coprire il periodo estivo non ci sono quindi altri interlocutori per cui riguarda i pagamenti al momento abbiamo sempre pagato nei 90 giorni diciamo dalla scadenza della fattura quindi siamo nella regolarità rispetto a la SARIM assunti per concorso c'è una selezione su quelli che lei prima ha menzionato no i stagionali i stagionali allora i stagionali sceglie la SARIM direttamente però sempre in accordo questo con i sindacati sulla base della presenza sul cantiere quindi diciamo ha conosciuto per effetto dei rapporti con la Iele di quelli che erano gli stagionali che già lavoravano con la Iele e da questi ha assunto i dipendenti sempre mantenendo quella logica di che coloro che lavoravano hanno continuato a lavorare questa era una scelta che la SARIM poteva anche non fare per la verità penso che ha agito nella maniera corretta perché se avesse fatto avesse assunto le persone diverse da quelle che ha già lavorato non sarebbe stato il modo giusto di agire quindi complimenti alla SARIM per quello che ha fatto d'altra parte se qualcuno volesse pensare male si potrebbe pure dire che erano 25 persone da assumere se qualcuno avessero dovuto fare assunzione ad Aiosa le poteva fare ma questo è lontano dal nostro modo di agire quindi abbiamo lasciato che coloro che lavoravano continuassero a lavorare ci mancherebbe altro sulla SARIM diciamo che è stato a livello verbale abbastanza esaustivo dove poi io mi documenterò chiederò dei documenti nei prossimi giorni sulla ripeto sindaco sulla cilento servizi lì c'è un grosso lì c'è la violazione di legge lei prende a provvedimento ma lei deve prendere provvedimento consigliere Botticchio io la saluto simpaticamente grazie grazie sindaco qua non è simpatia buona serata grazie ottavo punto signor Presidente chiedo scusa un attimo posso visto che giustamente il sindaco deve andare via e due interrogazioni una riguarda il sindaco una riguarda lei e il segretario comunale se mi fa fare prima che quella che riguarda il sindaco anche perché è velocissima è rapida non ci sono problemi consigliere è una risposta più unica che è rara va bene passiamo al nono punto richiesta del consigliere Abbata al sindaco trasmessa via PEC il 19.04.2019 interrogazione sul ritiro dei rifiuti dei proprietari non residenti prego consigliere Abbata è la sua andata via perché deve andare per altri appuntamenti le chiedo subito velocemente essendo la città di Agropoli una città turistica in cui molte sono le seconde case di proprietà di persone che non abbiano Agropoli o hanno la residenza dell'Agropoli hanno il problema mi è stato chiesto hanno il problema di sapere in quei due giorni di fine settimana che noi veniamo come dobbiamo fare per lasciare i rifiuti e io mi sono caricato di questa responsabilità di questa interrogazione per sapere e farla conoscere poi gli altri atteso che Agropoli questo è un servizio che deve a mio modo di vedere assicurare con priorità si dell'appalto della società proprio un iso delle isole ecologiche mobili proprio per come? proprio per dare la possibilità a coloro che stanno per un brevissimo tempo e quindi non possono conferire tutti i rifiuti quindi nei prossimi giorni ci sarà l'allestimento di queste isole ecologiche mobili certamente l'isole ecologiche che andremo a fare domenica mattina darà comunque un ulteriore sollievo per la gestione di questi servizi ma fino ad ora è stato garantito comunque la raccolta perché in effetti la domenica quando vanno via sostanzialmente l'umido lo possono mettere perché è nella raccolta complessiva si tratta di quella busta di multimateriale che si va a creare perché secco diciamo realmente non se ne crea in due giorni si tratta di quel multimateriale e la bustina di multimateriale che hanno messo all'esterno fino ad ora è stata tranquillamente presa perché io ho parlato anche stamattina con il coordinatore loro conoscono bene la situazione complessiva della città conoscono bene i posti dove converiscono i residenti non residenti quindi hanno una mappatura chiara quindi quando io posto questa sua giusta interrogazione loro mi hanno risposto che loro stanno risolvendo il problema in questa fase raccogliendo lo stesso ma nei prossimi giorni ci sarà l'istituzione di questa isola ecologica mobili che risolverà il problema l'unica cosa che volevo dire un servizio proprio ad hoc noi quando facevamo la valutazione sulla gara d'appalto lo facemmo veniva molto costoso perché significava perché tu non puoi non è che sono confinati i cittadini non residenti in una sola area della città significava decuplicare il lavoro diciamo della società e il costo sarebbe stato veramente molto molto grande che significava come dire nel weekend andare a uscire 4-5 volte per prendere il singolo rifiuto quindi fare proprio un servizio ad hoc l'avevamo immaginato non l'abbiamo poi considerato anche tenendo presente che non è una cosa che nessuno fa anche che siamo poi consultati quindi non è una cosa un servizio ad hoc porta a porta solo per coloro che vengono nel weekend quindi e quindi si è opzionato per l'intervento dell'isola ecologica mobile che potesse chiedere un piccolo di sacrificio in più rispetto ai villeggiani che devono portare sostanzialmente il problema è questa busta di multimateriale perché l'umido ripeto viene ritirato la domenica la domenica di mattina quindi la domenica sera quando vanno via quindi non c'è il problema del confermio dell'umido ma del multimateriale in questo caso con questa isola ecologica mobile penso il problema verrà risolto fermo restando che c'è molta consevolezza da parte degli operatori conoscono molto bene la città e non faranno in modo che questo problema non peserà su questi cittadini prego consigliere sindaco io condivido quello che avete scelto di fare però vorrei rassicurare questi cittadini cioè a partire dalla domenica sera loro avranno la possibilità di conferire in multimateria un'isola ecologica provvisoria mobile se non sbaglio giusto non lo voglio interrompere mi pare che forse sono tre punti in città è chiaro che quattro passi se li devono fare per andare a scaricare ove però in mancanza di quest'isola ecologica mobile loro possono lasciare giustamente sia l'umido che l'altra busta perché comunque gli operatori in questo momento gli operatori eseguiranno perché vanno tranquillizzati in quanto noi viviamo di turismo ed è giusto che pure questi turisti non residenti possono almeno frequentare la nostra città lei sa che comunque anche i verbali che sono stati fatti in questi giorni hanno riguardato certamente situazioni particolari situazioni limite o comunque situazioni di conoscenza di chi era la persona o il condominio che è ricevuto il verbale non certo è il caso dell'utente da weekend perché è conosciuto anche perché dal caso potrebbero dire ma detto il consigliere Abbate che è così e quindi la dovrei pagare io quindi mi auguro che non si ferisce va bene ormai possiamo dividere così allora altra e ultima domanda questa è di volta al presidente del consiglio se lei deve andare via può andare ok allora siamo all'ultimo punto richiesta del consigliere Abbate al presidente del consiglio di conoscere con riferimento all'ultima seduta consigliare dell'11 4 2019 se il presidente del consiglio comunale nella preparazione degli atti che è esenti dell'articolo 42 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale devono essere depositati presso la segreteria comunale ha verificato o meno la presenza in questi atti dei verbali delle deliberazioni di cui è la seduta precedente prego consigliere allora la domanda che sembra così articolata in modo difficile in realtà è semplicissima la scorsa seduta di consiglio comunale sono stati approvati i verbali della seduta precedente i verbali della seduta precedente sono quelli relativi non so se ve lo ricordate presidenza e pubblico sono quelli relativi al mio tentativo di intervento allorché alle dimissioni ovvero alla revoca dell'assessore Serra e alla nomina dell'assessore D'Arienzo io volevo intervenire e mi fu diciamo non data la parola non dico tolta ma mi fu non data la parola poi avevo scritto con qualche giorno di anticipo di correggere quel verbale perché io l'avevo letto la mattina in cui era stato pubblicato la mattina in cui quel verbale è stato pubblicato è la mattinata del giorno in cui avete tenuto consiglio comunale cioè l'11 aprile cioè la stessa se non fate errato la stessa giornata in cui praticamente si tiene seduta di consiglio comunale che si approvano i verbali della seduta precedente voi l'avevate pubblicata ho avuto un dubbio addirittura sull'orario di pubblicazione perché ho controllato tutta la mattinata ma i verbali non erano stati ancora pubblicati ed avevo scritto al presidente del consiglio comunale per conoscenza al segretario comunale dicendo addirittura fatemi sapere l'orario il segretario comunale mi risponde con queste testuali parole riferimento all'oggetto si rappresenta quando segue come da documentazione allegata risulta priva di fondamento che i verbali di deliberazione del consiglio comunale del 29 marzo 2019 non fossero regolarmente pubblicati già nella mattinata dell'11 aprile 2019 cioè in sostanza il segretario dice stai recendo alla fesseria perché sono state pubblicate però la documentazione che il segretario mi ha legato documenta in modo inequivocabile che i verbali di quella seduta del 29 marzo sono pubblicati l'11 aprile cioè la mattinata alle 12 12.01 12.03 12.04 poi mi risponde pure perché io avevo chiesto di correggere il verbale che riguardava il fatto del mio intervento su cui il presidente non mi aveva concesso la parola e mi risponde praticamente dicendo che è tutto a posto che è stato fatto benissimo questa è la sostanza segretaria non perché voglio e alla fine praticamente dice tanto valga qualche chiarimento autentico della verbalizzazione che il consigliere Abate volesse utilizzare a qualunque fine senza alcuna necessità di rettifica del verbale di consiglio cioè dice comunque tu la voglio utilizzare perché evidentemente non dico che vuole praticamente diciamo ridicolizzare il mio intervento ma fa un tentativo ma muturizzare perché tanto tranquillo praticamente quella è la verbalizzazione dico la verità il segretario il presidente del consiglio in questo momento mi rivolgo a voi ma mi rivolgo anche al pubblico di Agropoli e alla televisione per un semplicissimo motivo perché la televisione può funzionare da verbalizzazione oltretutto tengo pure la forza dell'ordine presente non so per quale motivazione giustamente presente mi fa piacere allora io ho scritto per questa parola che non mi è stata data e quindi per la possibilità di intervento ho scritto sia al prefetto di Salerno e sia al ministro degli interni è chiaro ed è evidente che il prefetto di Salerno da quando io ho scritto ancora non mi ha risposto io ho scritto il 12 aprile quindi fa pochi giorni farà il mesetto con cui io ho scritto al prefetto dicendo vedi di intervenire perché nel consiglio comunale di Agropoli invocando un articolo di legge che a mio modo di vedere un articolo di regolamento che a mio modo di vedere non aveva motivo di esistere perché letto male vedi di intervenire perché io come consigliere voglio la parola su quell'argomento spetta al consiglio intervenire poi ho scritto al ministro degli interni per dire vedi di controllare se il prefetto di Salerno nella sostanza mi risponde perché se il prefetto di Salerno nella sostanza non mi risponde evidentemente l'unico appello è il ministro cioè cerca di intervenire quindi sulla prefettura assumendomi ogni responsabilità invito quindi il prefetto a rispondermi a pigliare una decisione una decisione sarebbe pure quella molto probabilmente di punire il consigliere Abbate perché semmai è andato al di là di quelle che potevano essere i suoi limiti di consigliere Comunale sono qui sto aspettando non c'è problema ritornando invece alla interrogazione quindi Presidente non me lo faccia dire lo dica lei direttamente l'articolo 42 è seguente è seguente io non glielo ho richiamato i seguenti perché voglio vedere dove vuole arrivare lei l'articolo 42 è seguente lascia intendere in modo chiaro ed inequivocabile che i verbali che si approvano in questa seduta ancorché non iscritti all'ordine del giorno vanno comunque approvati ma purché incartellati nella cartella che sta a disposizione dei consiglieri comunali quattro giorni prima come tutti i documenti che devono essere discussi in consiglio comunale quindi le chiedo lei aveva controllato che in quella mattinata i documenti erano già in atti da quattro giorni ovviamente con tutti i depositi con tutte le pubblicazioni allora dobbiamo fare un po' di chiarezza perché come sempre lei è molto abile a mistificare tanti concetti innanzitutto io la rispondo stasera seppur il regolamento del question time al punto 2 il presidente del consiglio non può essere interrogato però io non mi sottraggo se non lo prevede io applico sempre i regolamenti consigliera Abate l'ho fatto parlare l'ho fatta parlare e come sempre lei è abile a cambiare quello che regola i regolamenti però lei è un buon legislatore sicuramente darà un contributo nella stesura dei prossimi regolamenti e pertanto le invito a partecipare a quelle famose commissioni così quando si faranno darà modo di dare il suo apporto al cambiamento anche del regolamento del consiglio comunale perché io ribadisco che lei lo interpreta sempre nel suo verso allora attendiamo il prefetto il ministro che ci diranno quali sono gli errori che ha fatto la presidenza del consiglio e il segretario generale nel applicare il regolamento vigente nella città di Acropoli e andiamo all'articolo 42 lei mi deve spiegare i quattro giorni che lei parla che io devo avere agli atti la documentazione che cosa c'entra con la pubblicazione delle sedute precedenti perché nel momento che io ho agli atti la proposta che tra l'altro quella proposta è l'approvazione dei verbali precedenti lei me lo insegna chi la firma la firma il presidente del consiglio la firmo io stesso con la regolarità tecnica da parte del funzionario responsabile che nel caso specifico è il segretario generale quale omissione ho fatto nel momento che il 22 di marzo mi è stata sottoposta alla firma la proposta dei verbali precedenti lei sta facendo confusione con la pubblicazione io non potevo dare ai voti la delibera dell'approvazione dei verbali precedenti se all'albo pretorio che è stata trasmessa e che l'ufficio dei messi comunali ci ha trasmesso che alle ore circa 9.35 sono state inoltrate tutte le richieste online dell'11 di aprile io voglio capire dove vuole arrivare perché poi tra l'altro il consiglio comunale è stato fatto alle ore 18 no a mezzogiorno circa sì perché dell'11 di aprile era a mezzogiorno mi fa capire qual è il problema perché non riesco a capirlo glielo faccio capire subito presidente i verbali per regolamento devono essere depositati già pubblicati l'articolo 63 dice il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio senza bisogno di inserire l'argomento all'ordine del giorno a riguardo i verbali viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti esenti nell'articolo 42 del presente regolamento che cosa voglio significare che il verbale che deve essere messo là deve essere oggetto di pubblicazione perché su quel verbale potrebbero giungere avverso alla pubblicazione cioè nel senso che quando si vede la pubblicazione delle notazioni per cui il tutto andrebbe portato in consiglio comunale e quindi il tutto deve essere nella cartella quattro giorni prima non potete pubblicare il verbale a mezzo giorno io per esempio che quel giorno in consiglio comunale non potevo venire se fossero stati pubblicati nei quattro giorni precedenti avrei letto il verbale avrei mandato molto probabilmente a fare a quel paese l'appuntamento che tenevo e correvo in consiglio comunale per venire a dire no sto verbale non si approva perché non è fatto bene per questo questo e questo e il segretario e lei mi contestavate poi su quello che avevo detto mi viene tolto così un diritto elementare che lei vuol santificare che il verbale l'aveva firmato 20 giorni prima non significa niente deve andare in pubblicazione lo dice l'articolo 63 questo articolo 63 che evidentemente l'è sfuggito fu corretto fu corretto tanto è vero che se lei va a legge il regolamento che è stato oggetto ad approvazioni il 2002 il 2013 non ricordo bene poi aggiornato addirittura il 2013 fu corretto l'articolo 63 proprio per questo motivo cioè noi dobbiamo avere la certezza che gli argomenti che arrivano in consiglio comunale siano 4 giorni prima regolarmente adottati pubblicati controfirmati perché perché giustamente la regolarità è un atto dovuto specialmente in un consenso comunale per quanto riguarda poi il fatto che lei dice io vi mando comunque i documenti a casa perché è un'abitudine che abbiamo preso quella di ricevere giustamente un'abitudine che ormai il 2019 penso che sia necessità di ricevere i documenti a casa allora avrebbe dovuto mandare anche le copie dei verbali a casa di tutte le deliberazioni e non le ha mai mandate le può andare a controllare nella posta il che documentava che quel giorno i verbali non si discutessero e non venissero approvati allora consigliere lei dà la sua interpretazione al regolamento io applico il regolamento e a supporto cioè sia il segretario generale ma nel caso specifico anche responsabile del servizio che nel momento che mi sottopone all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e me lo sottoscrive quale regolarità tecnica il mio ruolo mi porta a portare a votazione la delibera dei verbali precedenti fermo restando che arrivando all'ultimo giorno prima della seduta convocata lei ha tutto il tempo anzi tiene ancora a disposizione tempo di poter ricorrere poi faccia come ritiene opportuno non c'entra niente il tempo che io per ricorrere dal giorno della pubblicazione alle autorità preposte c'entra la discussione che avrei potuto affrontare in consiglio comunale e non ho affrontato perché giustamente ero convinto che lei non potesse mai portare all'approvazione quei verbali comunque le voglio dire una cosa Presidente perché lei ha dato la sua opinione io sono di opinione nettamente contraria certamente e certamente senza soffermarmi su chi intende ridicolizzare oppure su chi addirittura praticamente terzo in città cioè non della maggioranza né della minoranza terzo fallito della società del lavoro ha espressioni contro chi invece tende di far rispettare le regole in questo consenso le regole vanno rispettate in questo consenso per far sì che tutti i cittadini possano vederci chiaro non perché io intendo speculare su quello che è l'articolo e il comma non l'ho mai fatto né nella mia vita sociale né nella mia vita professionale intendo farlo qui perché sto amministrando un bene comune stiamo amministrando non ho capito sta facendo molta attenzione a questi dettagli lo faccio e lo continuerò a fare nell'interesse sovrano dei cittadini ma è naturale perché se la politica è quella praticamente di dire ho ottenuto il risultato è chiaro che state facendo un'ottima politica se la politica è quella invece di dire voglio essere corretto onesto intellettualmente in modo tale che chi mi seguirà potrà capire praticamente qual è stato il percorso che ho voluto seguire è chiaro che ognuno ha un punto di vista io è il mio e lei è il suo lei prosegue nel suo io proseguirò nel mio se posso aggiungere una relazione tecnica prego siccome è un'abitudine che non riguarda solo lei ed è un attento osservatore del regolamento vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 43,4 oltre che un fatto di buona educazione è un preciso obbligo del consigliere prima di uscire dall'aula di darne al viso al segretario dell'assemblea il quale nel caso venisse a mancare il numero legale le informa il presidente per le conseguenti determinazioni le voglio dire voglio solo ricordare che in quell'occasione lei non ha fatto alcuna dichiarazione sul motivo per cui usciva e quindi ben che meno poteva pretendere che il segretario avesse delle doti telepatiche circa le modalità di riassunzione di motivazione del motivo per cui uscisse scherzando scherzando segretario sta scherzando perché alza la voce io ci sta la registrazione io ho detto allora facciamo ripetere al presidente perché non mi concede la parola e se me la togli allora la registrazione c'è il presidente ha ripetuto si e la tolgo e quindi me lo sono andato il presidente ha detto il regolamento non lo consente precise parole che io ho scritto nella pecca a chiarimento della mia il regolamento non lo consente che cosa non consente non ha detto si gliela tolgo che cosa non consente non consente no è registrato ha detto si gliela tolgo l'abbiamo vista e la fate rivedere consigliera Abate consigliera Abate e la prossima volta le chiedo la cortesia come la chiedo a tutti i consiglieri prima di allontanarsi di esplicitare il motivo per cui ci si allontana e se ci si allontana per andare in bagno piuttosto che per un altro motivo così la metto a verbale va bene questo è il principio segretario segretario lei può chiedere quello che vuole secondo i regolamenti e sarà perciò lei può chiedere quello che vuole secondo i regolamenti e sarà certamente almeno da me gli obblighi degli altri almeno da me soddisfatto attenga pure gli obblighi di lei quale consiglio certo 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 che ottenvererò gli obblighi che mi vuole certo consigliera Abate gli ricordo adesso che anche per le prossime volte l'articolo 53 quando ci sono le comunicazioni del presidente quando io faccio delle comunicazioni del presidente lei in qualità di consigliere comunale ha facoltà di intervenire io applico il regolamento nel caso specifico di comunicazione da parte del sindaco cosa diversa nel caso specifico poi dell'articolo 46 del Tuel io non do mai la facoltà a fare intervenire nessuno questo lo vedremo lei lo chiede al prefetto e se il prefetto ci dice dobbiamo modificare il regolamento questo lo vedremo perché quando lei annuncia all'intervento del sindaco è una sua comunicazione c'è via comunicazione è una sua interpretazione come sembra continui così il presidente dice è una sua interpretazione su quella comunicazione avevamo diritto di parola ognuno per il gruppo consigliere Abate le consiglio di leggere il regolamento sul funzionamento del consiglio del comune di Terni il quale esplicitamente disciplina le comunicazioni del sindaco e le comunicazioni del CST il nostro no appunto perfetto allora sembra la sua teoria se non è previsto è dovuto no è dovuto certo scusi consigliere per amore di discorso ce lo faccio dire dall'orgono supremo ma che senso ha il regolamento sul funzionamento del consiglio se non specifica in maniera tassativa quando possono intervenire i consiglieri che senso ha l'ha spiegato per me è chiaro per me è chiaro per me è chiarissimo cioè il regolamento dicevi in modo palese sulle comunicazioni del presidente non del sindaco del presidente è un'altra cosa sono due figure diverse sono due figure diverse sono due segretario oltretutto mi faccia praticamente un attimo da parte e cerchiamo di dire già avviene una comunicazione in quest'aula l'aula politica per eccellenza o da parte le do un altro motivo consigliere le do un altro motivo si legge l'articolo 47 sulle adunanze segrete il presidente aveva il preciso compito di interrompere la discussione e far abbandonare l'aula di valutazioni morali di competenza e poi certo sulla revoca del vice sindaco inevitabilmente si sarebbe andata a fare lei pensa cose nella mia testa è assurdo lei sta pensando quale valutazione e quale correttezza io avrei unito io avrei avuto si stava parlando di una persona io avrei avuto una correttezza più unica che dare qual è quella che mi contraddistingue da anni non avrei mai usato nessuno la mette in discussione ma non gli è dovuta non gli è dovuta perché il regolamento non lo prevede ma che non prevede presidente che non prevede aspettiamo come si determina il prevede lo vedremo tranquillamente sicuramente con molto onestà grazie a tutti buona serata